Buongiorno e ben ritrovati con informazione di TRM H24 in primo piano ancora la cronaca. Torniamo infatti ad occuparci dell'omicidio di Torre Maggiore. Nelle scorse ore Teftamalai, moglie dell'uomo fermato per aver ucciso sua figlia e un altro uomo di 50 anni, ha rilasciato un'intervista a un emittente albanese accusando l'uomo di aver ammolestato sessualmente la figlia fino a due anni prima dell'omicidio. Mio marito è un mostro, ha dichiarato la donna. Mia figlia non gli voleva più parlare ed è per questo che non solo gli ha rovinato la vita, ma l'ha anche ammazzata queste le dichiarazioni della donna rilasciate nelle scorse ore. Continuiamo ad occuparci di questo caso poiché nelle scorse ore si è tenuta l'udienza di convalida del fermo. Sentiamo. Nessun tentativo di accoltellare anche il figlio di 5 anni e il deposito, da parte del PM Cicala, di altri tre video che possono chiarire la dinamica della mattanza compiuta da Taolat Malai, l'albanese accusato dell'uccisione della figlia Jessica e del commerciante Massimo De Santis, nella notte tra sabato e domenica scorsa a Torre Maggiore nel Foggiano. Lo hanno dichiarato i difensori al termine dell'udienza di convalida. Uno di questi tre video ripercorre esattamente i momenti dell'aggressione alla moglie e alla figlia Jessica. Non c'è stato alcun tipo di interessamento nei confronti di Leonardo il piccolino di 5 anni. Ha iniziato a fare ulteriori dichiarazioni improntate ad un chiaro pentimento per quanto accaduto, ma ha avuto un crollo psicologico, si è messo le mani nei capelli. Altre immagini quindi riprese dalle telecamere installate in casa, dallo stesso panettiere, oltre al video horror girato col cellulare da lui stesso durante il duplice accoltellamento. L'albanese si è dichiarato certo di una relazione tra sua moglie e il De Santis. Ha spiegato perché lo ha girato il video? Lui ha detto che in quei momenti aveva il diavolo nel cervello, non capiva più niente. Un approfondimento sul quadro psichico o psichiatrico, noi lo riteniamo assolutamente doveroso. Intanto la moglie Tefta ha ricevuto la visita del figlio in ospedale e a Foggia dove è ancora ricoverata e atteso nelle prossime ore l'esame autoptico sulle salme di Massimo De Santis e di Jessica Malai. Cambiamo argomento, ci spostiamo ad Altamura in occasione di un'iniziativa elettorale del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida presente sul territorio pugliese. Abbiamo raccolto un suo commento sulla situazione legata alla filiera del grano e agli effetti dell'inflazione. Abbiamo lavorato in questi mesi per affrontare quella che era una crisi del prezzo del grano. Abbiamo già il 12 aprile incontrato tutte le associazioni datoriali insieme ai molitori, insieme ai trasformatori, insieme ai distributori perché è nell'ambito della filiera che bisogna trovare un equilibrio. Certo facciamo controlli serrati, io vengo adesso dall'ispettorato del controllo qualità e repressioni frodi per verificare che non ci siano persone che utilizzano la dicitura grano italiano utilizzando grano che provenga da altre nazioni. Interverremo, e lo stiamo facendo, su alcune filiere, quella del grano tenero, con alcune modalità che prevedono anche di utilizzare i fondi della sovranità alimentare e sosterremo ovviamente le nostre produzioni, arrivando pure ad immaginare quota di importazione massime che mettono nella condizione di esaurire le scorte interne, certo non mettendo in discussione la produzione della nostra pasta che è uno degli asset fondamentali di export e che ovviamente metterebbe in condizione di danneggiare con la chiusura del mercato estero anche i nostri trasformatori, non avrebbe un grande senso perché l'Italia è la nazione della qualità e delle certificazioni che devono mettere in condizione le persone di essere informate fino in fondo su che grano si utilizza e dietro al nostro grano c'è grande qualità oltre che tanto lavoro e quindi un lavoro che debba essere ripagato con il prezzo giusto. Ancora l'economia, ieri il presidente uscente dell'Inps Pasquale Tridico presente a Potenza in occasione della presentazione della guida sui servizi alla genitorialità. Per orientarsi tra bonus, indennità, assegni e congedi di maternità arriva la nuova guida realizzata dall'Inps, dall'Agenzia delle Entrate, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dall'Inail. Accanto alle mamme non solo il titolo della produzione presentata nelle scorse ore a Potenza, presente anche Pasquale Tridico, presidente uscente dell'ente di previdenza sociale che è intervenuto sul commissariamento dell'Inps. Il welfare del paese si è espanso, abbiamo dato vita a nuovi strumenti, a nuovi istituti. Oggi parliamo qui di sostegnare famiglie, di assegno unico, di politiche per la famiglia che sono necessarie anche perché il calo demografico incombe. E quindi da questo punto di vista il welfare ha fronteggiato bene non solo la fase di emergenza che ha visto l'Istituto in prima persona attraverso politiche sociali, 60 miliardi di euro in più spesi per fronteggiare le crisi pandemiche appunto attraverso bonus, cassa integrazione Covid, reddito di emergenza, reddito di cittadinanza per poveri, per disoccupati, per cittadini che erano rimasti senza lavoro per un periodo prolungato. In quella fase abbiamo capito quanto importante fosse lo Stato e quanto importante è stato l'Inps in questa fase. Noi quest'anno abbiamo pagato circa 22 miliardi di incrementi pensionistici anche se non al 100% in modo decrescente e allo stesso tempo non abbiamo incamerato contributi crescenti per via del fatto che i salari sono fermi, i contratti non vengono rinnovati, in assenza di un salario minimo questo procura uno squilibrio che ci auguriamo sia temporaneo, cioè sia legato soltanto all'anno in cui c'è l'inflazione, ma se l'inflazione è continua questi squilibri vengono perpetuati. E iniziano i lavori dell'osservatorio sui rifiuti in Puglia nelle scorse ore, la prima riunione, sentiamo. Riduzione dei rifiuti, miglioramento del sistema di gestione, economia circolare, raccolta differenziata e prospettive dell'impiantistica pubblica e privata. Sono questi i principali temi affrontati durante la prima riunione dell'osservatorio regionale sui rifiuti a cui hanno preso parte l'assessora all'ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio, i rappresentanti di Confindustria, ARPA, Ager, Lega Ambiente, del Politecnico di Bari e del CNR, nonché i Dipartimenti dello Sviluppo Economico e Agricoltura. Uno degli obiettivi fondamentali, ha commentato Maraschio, è quello di avere a disposizione i dati e per fare questo occorre mettere a sistema i vari strumenti informativi, in modo da rendere più agevole la vita dei comuni. Numerosi gli spunti derivati dal primo incontro dell'osservatorio, come la possibilità di raccogliere separatamente il PET generando occasioni di sviluppo economico e occupazionale, oppure, altro tema da affrontare, il riutilizzo dei fanghi di depurazione oltre 200.000 a quelli prodotti dall'Acquedotto Pugliese. Vincenzo Campanaro, direttore scientifico di ARPA Puglia, ha parlato poi della necessità di coinvolgere la Polizia Locale per i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, mentre Stefano Dell'Inoci, del direttivo di Lega Ambiente, ha posto l'accento sulla necessità di sensibilizzare le più giovani generazioni. L'osservatorio avrà i compiti principali di raccogliere, esaminare e armonizzare i dati riguardanti la gestione dei rifiuti, creando così un sistema informatico di produzione, acquisizione e diffusione dei dati. La città di Bari risulta essere tra le prime dieci in Italia per i-tech. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco e assessore alla trasformazione digitale, Eugenio Di Sciascio. Un riconoscimento importante per l'economia di oggi è lo sviluppo futuro della città. Bari è tra le dieci città, tech, cities italiane, insieme a Padova, Torino, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Udine, Verona e Catania. Città dove in totale si concentra l'81% delle offerte di lavoro del settore Information Technology, l'applicazione della tecnologia per risolvere problemi aziendali. Un dato non casuale per il vice sindaco e assessore alla trasformazione digitale e servizi civici del capologo pugliese, Eugenio Di Sciascio. È un lavoro che viene da lontano, è una grande soddisfazione. È un processo che è determinato sicuramente dalla presenza di ottime realtà come il Politecnico, l'Università di Bari, ora si è affacciata anche la LUM nell'ambito dell'IT. Ed è un processo che, come dicevo, viene da lontano. Qui esistevano già realtà importanti, diciamo cito Ex Privia, cito Finco, cito tante altre realtà già preesistenti, nel tempo e nell'ambito dell'IT che hanno lavorato. Quello che è cambiato è che abbiamo avuto la capacità di attrarre anche una serie di grandi aziende nuove che negli ultimi anni si sono avvicinate alla nostra città, anche perché la nostra città è una città che sta migliorando sotto tanti aspetti, che è una città effervescente. Credo che sia importante anche, soprattutto potrei dire, per i nostri giovani, che oggi hanno tante opportunità, non soltanto laureati in ingegneria o laureati in informatica, c'è tanta richiesta anche da parte dell'ITS, tanta richiesta anche sugli istituti, diciamo, tecnici. Siamo riusciti, io credo, a intercettare un trend e quindi a rendere la nostra città un punto di riferimento, insieme alla regione, insieme a tutti gli attori, perché quello che ci tengo anche a sottolineare è che è un lavoro di sinergia, è un ecosistema quello che attrae e in questo momento ci stiamo riuscendo. Intelligenza artificiale, risorse e pericoli, se ne è parlato a Foggia durante un incontro organizzato con gli studenti. Quadri dipinti da computer, musiche composte da campionatori, progettazioni edilizie, agricole e grafiche, e inclusione di chip in campo sanitario. L'intelligenza artificiale è presente in modo sempre più dirompente nella quotidianità. Pericolo o grande risorsa? È una grandissima opportunità, frutto del genio e della ricerca dell'uomo. E proprio perché una cosa grande e potente chiede di essere utilizzata e progettata con intelligenza e saggezza. Dobbiamo riconoscere le peculiarità di questa nuova tecnologia che certamente è molto suadente, è pervasiva e come tale ci impone un'attenzione diversa. Ma appunto ogni tecnologia, proprio perché è peculiare, impone delle attenzioni diverse affinché appunto non si cada in un rischio di schiavitù o di pessimo utilizzo o anche di pessima progettazione. Perché non è che le tecnologie sono neutre e poi le usiamo bene o male. Anche a scombra come le costruiamo possiamo ottenere cose di un certo tipo o di un altro. Don Andrea ha incontrato gli studenti dell'Istituto Pascal di Foggia. Oleogrammi interattivi, algoritmi che governano i social, riconoscimento facciale, auto semi-automatiche, comandi vocali già in uso da un decennio. Come sempre è proprio l'uso a separare l'utile dal pericoloso. È una tecnologia trasversale che segna e attraversa tutti i campi della vita dell'uomo. E proprio per questo il problema non è l'utilizzo o l'efficacità, il problema è la mettiamo a servizio dell'umanità in maniera rispettosa del pianeta che vive e dell'intera umanità che vive questo pianeta? Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione e a tutti una buona giornata. Grazie a tutti.